De Pasquere è caduto in uscita dall'arrabbiata 2, rimanendo al centro della pista, venendo poi travolto dalla moto di Sasaki. Il pilota svizzero è stato subito sottoposto a risonanza magnetica per capire quale siano le criticità delle sue condizioni. È stato un incidente davvero molto serio quello che ha coinvolto De Pasquere. È avvenuto durante le qualifiche della Moto3. I soccorsi sono stati tempestivi e subito dopo è stato trasferito all'ospedale Careggi di Firenze. Le condizioni sono molto serie e attendiamo aggiornamenti, ha dichiarato il medico della FIM Giancarlo Di Filippo. Aggiungendo, l'equip medica ha lavorato per stabilizzare Jason prima del trasporto in ospedale. Le ferite sono gravi e la situazione è molto complessa. Il 19enne svizzero è stato sottoposto a risonanza magnetica per verificare quale sia la zona più critica sulla quale intervenire con maggiore urgenza. Grazie a tutti.